Sono 17 i comuni piemontesi che beneficeranno dei contributi regionali a fondo perduto per sostenere parte dei costi per valorizzare alcuni luoghi del commercio. Con 6 milioni e 200 mila euro a disposizione, i comuni entrati in graduatoria potranno così finanziare il 30% di progetti relative a percorsi urbani del commercio e ottenere così la riqualificazione di alcune vie che per tradizione e storia sono state preferite ad altre. Nella classifica finale dei comuni finanziati, Pino Torinese è in testa ottenendo circa 150 mila euro per riqualificare Via Roma su un progetto con un costo preventivato di circa mezzo milione di euro. Seguono al secondo e al terzo posto Ovada e Alessandria con una serie di interventi che interesseranno i loro centri storici. Il capoluogo Alessandria avrà 148 mila euro per la riqualificazione di Via San Lorenzo e Via San Giacomo della Vittoria. Il progetto finanziato prevede anche qui un costo complessivo di 500 mila euro con l'allestimento di luci a LED e una nuova pavimentazione delle due vie del centro storico e traverse. Previste anche nuove panchine e alcune rastrelliere per biciclette. A Ovada arriveranno circa 124 mila euro che contribuiranno così a finanziare lavori di riqualificazione che partiranno da Via Cairoli e poi ancora in Via Torino e l'inizio di Via San Paolo. Seguono poi altri comuni tra cui segnaliamo Ornavasso, Carmagnola, Grugliasco, Dronero, e Nizza, Monferrato. L'elenco dei comuni è disponibile sul sito ufficiale della Regione e i beneficiari ammessi al finanziamento avranno ora 120 giorni di tempo per presentare i progetti esecutivi delle opere da realizzare. Con molti centri storici a combattere la chiusura di negozi e serrande, la Regione ha voluto così favorire la creazione dei cosiddetti centri commerciali naturali, ritenendo che essi possano costituire una reale alternativa alla grande distribuzione organizzata.